Tre candidati per una realtà citerna che si appresta al voto dell'8 e 9 giugno mettendo in lizza il sindaco uscente Nea Paladino, la lista civica con area di riferimento centrodestra e gli sfidanti Alessandro Capaccio e Eleonora Dellarina, entrambe liste civiche con area di riferimento nel centrosinistra. Una realtà, quella alto tiberina, che esprime un PIL pro capite tra i migliori dell'Umbria, sede di aziende a vocazione agricola di qualità, aboca tra queste e lunga tradizione tabacchicola, ma luogo anche di culture d'arte nel cuore di quella vallata del rinascimento che dall'aretino scende fino a città di castello. Dibattito animato, arricchito dal contributo dei giornalisti Davide Baccarini di tuttoggi.info e Alessandro Minestrini di Umbria 7, oltre che di Carlo Stocchi della redazione di TRG, che ha toccato temi strategici, dal turismo come argomento da incentivare in chiave sia green che esperenziale con il cammino di San Francesco, al nodo viabilità che sul tracciato della E78 ha visto tutti i candidati concordi nell'esprimere perplessità sul progetto attuale. Progetti per anziani e giovani nelle agende dei tre candidati che a TRG, in due casi, hanno anche voluto fornire anticipazioni sulla loro possibile giunta. La nostra giunta sicuramente sarà eletta all'interno dei nostri candidati di lista, quindi non saranno date deleghe all'esterno, verranno individuate le deleghe che il sindaco le individuerà in base ai criteri di competenza, di disponibilità nel rispetto della parità di genere, quindi ci sono tanti paletti e quindi avendo quattro elementi in giunta, due devono essere di un senso e due dell'altro, quindi sicuramente la Cristina Tappini, perché ha già fatto questa esperienza, è capace, è stata già vice sindaco e assessore nelle passate legislature, quindi sicuramente competente, capace e disponibile a poterlo fare. Le nostre regole sono quelle di cinque anni fa, quindi noi ovviamente operiamo per quanto riguarda le preferenze, quindi il voto popolare è la cosa più importante, sicuramente la territorialità, la questione di genere è per legge e quindi la nostra lista vanta la meritocrazia. In questa lista ho già due persone che sono in giunta, quindi ho il vice sindaco e l'assessore Samuel Federi che si sono rimessi in gioco, quindi per quanto mi riguarda le loro competenze sono indiscutibili. Come nella mia lista oggettivamente non c'è alcun interesse a rivestire incarichi, non ne abbiamo assolutamente parlato, quindi abbiamo dato priorità a sentire le persone, a costruire i programmi, a preparare i vari comizi elettorali che ad oggi abbiamo fatto, non abbiamo parlato assolutamente di incarichi di chi potrebbe rivestire l'una o l'altra posizione.